Ad appena 72 ore di distanza dalla vittoria contro Sansevero, l'Orlandina Basket è pronta a scendere in campo nell'insidiosa trasferta di Rieti. I laziali sono reduci dall'isolamento fiduciario, imposto dall'Asle per alcuni casi all'interno del gruppo squadra. Sarà comunque un match complicato per gli uomini di coach Marco Sodini, che in caso di vittoria metterebbero una seria ipoteca sul mantenimento della categoria, diventato l'obiettivo principale di questo girone blu. La chiarezza di un lavoro fatto durante tutto l'anno deve essere quella che poi spinge i giocatori in un momento in cui la stanchezza non è soltanto fisica ma anche emotiva, psicologica e quindi deve essere lo specchio di un lavoro fatto, quasi un'abitudine. La prima partita ha detto che sarà un girone difficile ed equilibratissimo. Rieti, nel ultimi anni sotto la guida di coach Rossi, ha avuto un'identità estremamente precisa e a onor del vero anche l'Orlandina sotto la mia guida ha avuto sempre un'identità piuttosto precisa e lo è ancora adesso. Noi vogliamo a tutti i costi che la partita sia lo specchio di quell'identità.